Il 90 è carini su Alfa 19, sarà il vincitore del trofeo Bonacossa quale migliore nei tratti a cronometro. 118 è Valenzano su Lancia 2005, sarà secondo assoluto nel gran turismo di serie in cui il vecchio Biondetti il 126 si classificherà quarto portando a termine benché febricitante la cavalcata di quasi 6.000 km. Eccolo a Sanremo. A Napoli un incidente più pittoresco che pericoloso, scendono da 133 Franco Simon Tacchi e Luisa Rezzoni. Si corre anche di notte ma l'organizzazione fa fronte a qualsiasi necessità dei concorrenti. Siamo a Rimini, sede della quarta tappa, arrivi di giorno e alla luce artificiale, pronti a ripartire per la Rimini Merano. Continua nel gruppo Gran Turismo il duello Valenzano-Taramazza. Nel turismo speciale, secondo dietro Carini, il 67 Gianni. Colpo di scena all'ultimo chilometro, il 46 Bertani per Guasto allo Spinterogeno finisce in giro a piedi, perdendo così il primo posto nel turismo normale. Sfrecciano i volini nell'ultimo tratto cronometrato. Vittoriosa l'Alfa SS e primo piano d'obbligo ai suoi piloti Taramazzo e Gerino.